e stare attento che si muovessero adesso tu metti soltanto il gas al 50 e poi sali di una a due alla terza tacca lui comincia a salire guarda armi e motori gas al 50 per cento quando arriva la terza che vuoi per fare un giro per vedere se funziona avere gps ok vieni che ti faccio provare un decollo così almeno lo provi anche te